L'impegnativo viaggio di Khan Yaman verso El Turco, confessioni sulle riprese in Ungheria. Il famoso attore Khan Yaman ha iniziato il conto alla rovescia per il suo attesissimo progetto internazionale El Turco. Yaman ha fatto luce sul dietro le quinte di questa avventura condividendo con i suoi fan le difficoltà e le esperienze vissute durante il processo del progetto. Affermando che le riprese in Ungheria sono state la parte più impegnativa, l'attore ha dichiarato di aver seguito un intenso processo di preparazione per aumentare la sua resistenza fisica. Dovevo essere come un atleta. Parlando delle difficoltà incontrate durante le riprese in Ungheria, Khan Yaman ha sottolineato che il progetto è stato un grande test per lui sia fisicamente che psicologicamente. Il giocatore ha dichiarato che il suo ritmo di allenamento quotidiano è piuttosto elevato. Dovevo essere come un atleta. Era fisicamente difficile. Mi allenavo per ore, a volte ero da solo in palestra. Queste dichiarazioni rivelano quanta importanza Yaman attribuisce alla sua performance e quanto sia disciplinato mentre si prepara per il progetto. Le lunghe giornate di riprese nel clima freddo dell'Ungheria hanno richiesto all'attore sia forza fisica che resistenza mentale. Khan Yaman ha dichiarato di aver avuto un'esperienza diversa durante le riprese in Ungheria rispetto all'atmosfera lavorativa nelle produzioni turche. La squadra ungherese è stata molto severa. In Turchia siamo abbastanza tranquilli. Ma dopo la fine del campionato mi sono sentito orgoglioso. Con queste parole ha affermato che, sebbene abituarsi a un ambiente di lavoro disciplinato sia stato inizialmente impegnativo, alla fine si è trasformato per lui in un'esperienza soddisfacente. Se da un lato lavorare con il team ungherese ha consentito a Khan Yaman di acquisire una nuova prospettiva nella sua carriera, dall'altro ha anche dimostrato l'importanza di collaborare con culture diverse. Poiché la maggior parte delle scene della serie sono basate su scene di cavalli, Yaman ha dovuto specializzarsi nell'equitazione. L'attore ha affermato che il legame che ha instaurato con i cavalli ha un posto importante nel progetto. Ho avuto un direttore meraviglioso che mi ha insegnato tutto sui cavalli. Prima di poterli cavalcare, dovevo capire la loro psicologia. In tre mesi ho imparato come trattarli. Yaman, che non vede l'addestramento a cavallo come una semplice abilità tecnica, ha attirato l'attenzione sull'importanza di comprendere la psicologia degli animali. Durante questo processo, ha affermato che la comunicazione che ha stabilito con i cavalli ha contribuito al suo ruolo e che il tempo trascorso con loro ha aggiunto molto a lui. Le riprese di El Turco e hanno portato l'orientamento di Yaman verso progetti internazionali un ulteriore passo avanti nella sua carriera. Grazie alla sua dedizione e disciplina nel migliorare se stesso nella sua carriera di attore, Yaman è stato in grado di lavorare in armonia con team di produzione di culture diverse. Il completamento con successo delle scene impegnative in Ungheria ha dimostrato quanto fosse concentrato su questo progetto e ha aumentato le aspettative del pubblico nei confronti della serie. L'impegno di Khan Yaman nel progetto El Turco e la determinazione che ha mostrato durante le difficili riprese in Ungheria sono stati un passo importante nel percorso professionale dell'attore. La resistenza fisica che rafforza attraverso l'allenamento e il legame speciale che instaura con i cavalli saranno uno degli elementi più importanti che si rifletteranno nelle sue prestazioni nella serie. Yaman ha dichiarato di essere orgoglioso di questa esperienza e che con questo progetto mirava a impressionare sia il pubblico turco che quello internazionale. Khan Yaman continua a fare un passo importante nella sua carriera con i suoi progetti internazionali. Il progetto è El Turco e gli offre una grande opportunità per mostrare il suo talento in tutto il mondo. Le difficoltà incontrate durante le riprese in Ungheria lo hanno messo alla prova sia fisicamente che psicologicamente. Yaman ha avuto successo in questo processo perché ha adottato uno stile di lavoro disciplinato. Prima di partecipare al progetto, Yaman aveva bisogno di migliorare le sue capacità di equitazione. Si è preparato allenandosi costantemente durante le riprese. All'inizio adattarsi alla rigida disciplina di lavoro del team ungherese è stato impegnativo. Tuttavia, questa è stata un'esperienza di apprendimento per Yaman. Per rafforzare il suo rapporto con i cavalli, Yaman si è concentrato sulla comprensione della loro psicologia. Questo è stato un elemento critico per le scene del progetto. Ha avuto anche la pazienza di affrontare le sfide derivanti dal lavorare con una cultura diversa. Yaman pensa di essere entrato in una nuova era della sua carriera grazie a questa esperienza. Le riprese della serie potrebbero rappresentare un punto di svolta non solo per Yaman, ma anche per la televisione turca. Il turco è offre l'opportunità di promuovere la cultura turca su una piattaforma internazionale. Yaman afferma che prendere parte a questo progetto è per lui motivo di grande orgoglio. Le sparatorie in Ungheria avranno un posto importante nella carriera di Yaman. Yaman condivide con i suoi fan ciò che ha imparato e sperimentato durante questo processo. Non vede l'ora di vedere come è il turco e raggiungerà il pubblico e quale impatto avranno le produzioni turche all'estero. Con questo progetto, Yaman è sulla buona strada per diventare una star riconosciuta a livello internazionale. I dettagli del progetto e le esperienze di Yaman durante il processo di ripresa sono attesi con impazienza dal pubblico. Yaman migliora se stesso facendo ogni giorno un nuovo passo nella sua carriera. Il turco e offrirà al pubblico una narrazione storica e fungerà da ponte culturale. La performance di Yaman nel progetto è il turco e lo aiuterà ad aprire una nuova pagina nella sua carriera. La serie ha il potenziale per creare un'interazione culturale tra la Turchia e l'Europa. Yaman pensa che prendere parte ad un progetto internazionale sia per lui una grande opportunità. L'entusiasmo di Yaman nell'acquisire nuove esperienze spingendosi oltre i propri limiti lo motiva ancora di più. Il turco e non è solo una serie, ma uno sforzo per avere un impatto internazionale. Yaman spera che il progetto contribuisca al successo globale delle produzioni turche. Le difficoltà vissute in questo periodo rafforzarono ancora di più il suo carattere. Yaman attira l'attenzione con il suo impegno nel progetto. Le sue esperienze con i cavalli gli hanno insegnato lezioni importanti. Yaman afferma che superare tali difficoltà gli dà grande soddisfazione. Yaman, dichiarandosi entusiasta dei suoi progetti futuri, pensa di aver fatto un inizio importante con El Turco. Questo progetto è un passo avanti verso il diventare un artista riconosciuto a livello internazionale. Yaman pensa che sia prezioso per lui fare un lavoro che introduca culture diverse al pubblico. Di conseguenza, il progetto El Turco e rappresenta un nuovo punto di svolta nella carriera di Khan Yaman. Le esperienze vissute durante le riprese in Ungheria aumenteranno il suo potenziale sulla scena internazionale. Yaman punta a che la televisione turca svolga un ruolo importante nel successo internazionale. Con l'avvicinarsi della data di trasmissione della serie, i fan attendono con impazienza la performance di Yaman. Yaman. Il Turco e offre una grande opportunità sia per Yaman che per la televisione turca. Yaman continuerà la sua carriera con le esperienze che questo progetto gli ha dato. I fan aspettano con impazienza questo nuovo progetto di Yaman. Il Turco e offre una storia storica e permette a Yaman di mettere in mostra il suo talento recitativo. Se da un lato la serie mira a presentare la cultura turca al pubblico, dall'altro mira anche a trovare un posto sulla scena internazionale. Il Turco e offre una storia internazionale.